Musica 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 è un departamento fondamentale, veniamo perdendolo con Mauricio, guardando le Quebradas, San Rosano. Il cordero, il c'è il cordero, non c'è il cordero, non c'è il cordero. Siamo in Rocha, un paraio, un paraio della naturalezza, del Uruguay natural, la aves, è impresionante la vita che c'è aca, è impresionante. Lo che sia, federales, tordos, cigüeñas, aguiluchos, águilas moras, cuervillos, carau, è impresionante la aves che c'è e la riqueza che c'è in la naturalezza. Il Uruguay è il miglior paese del mondo. Grazie a tutti.